Zero contagi da Covid-19 nella provincia di Pesero Urbino, un dato che si registra per la seconda giornata consecutiva. Infatti, nelle ultime 24 ore sono tre i nuovi casi positivi, ma tutti in provincia di Ancona, e comprandono rientri da altre regioni, contatti asintomatici di casi positivi e sintomatici. Si svuota anche la terapia intensiva di Marche Nord e non si registrano decessi. Intanto, dopo la stretta sui controlli annunciata dal prefetto Vittorio Lapolla per evitare assembramenti, le forze dell'ordine sono intervenute nei luoghi della Movida, come il Lungomare e il Centro Storico. A Fano sono state elevate 15 multe da 400 euro a chi non indossava la mascherina. L'assessorato alla polizia locale, dopo un confronto con il Comitato di Pubblica Sicurezza, aveva già sollecitato l'ordinanza dei primi di agosto per l'obbligo di indossare i dispositivi di protezione dalle ore 18 alle 6 del mattino, un atto che ha preceduto l'ordinanza tuttora vigente del Ministero. Poi, come spiega l'assessore Sara Cucchiarini, il comando di polizia locale ha messo in atto tutte le misure preventive e informative, prima che sanzionatorie, come gli avvisi con l'altoparlante, la consegna di mascherina a chi ne era sprovvisto, e la campagna social Mettiamo la mascherina, con la collaborazione di associazioni giovanili per sensibilizzare anche i ragazzi, invitandole alla responsabilità. Le auto della polizia locale hanno girato per tutta la città, soprattutto battendo le zone più affollate del lungomare e del centro, comunicando l'obbligo dell'utilizzo della mascherina, ricordando che chi non la utilizza incorre in sanzioni, e questo è stato fatto da Fosso Segliore fino a Ponte Sasso e Centro Storico soprattutto. Va detto che tutta questa attività che si è susseguita in queste settimane ha visto dei risultati perché c'è stato, rispetto ad altri luoghi, un contenimento del fenomeno. Abbiamo anche attivato un'attività di dialogo con le associazioni di categoria e anche l'assessore Lucarelli. Abbiamo rivisto la necessità di dare un giro di vite sulle indicazioni alla cittadinanza perché in molti, moltissimi, non portano la mascherina. E voglio ricordare che non sono solo i giovani, quindi da questo fine settimana sono state fatte più multe e ad essere stati sanzionati sono stati giovani e meno giovani. Le multe sono state elevate anche a minorenni, per questo la comandante della polizia locale Anna Rita Montagna si appella ai genitori invitandoli ad accertarsi che i propri figli siano muniti di mascherina prima di uscire. La comandante inoltre ricorda l'importanza di mantenere il distanziamento interpersonale e di lavare frequentemente le mani. Fano è una città che è stata fortemente colpita dall'epidemia e proprio ad evitare che si possa ritornare in una situazione peggiore mettiamo in campo tutte le azioni possibili al fine di limitare il contagio il più possibile. La sanzione è abbastanza pesante, non è quella definita dal Comune di Fano a livello nazionale, sono 400 euro di sanzione che qualora vengano pagati nei 5 giorni dal momento della contestazione si riducono a 280 euro. Al momento vige questa ordinanza del Ministro della Sanità, l'ordinanza è in vigore fino al 7 di settembre e quindi i nostri controlli proseguiranno e non soltanto nei confronti dei soggetti che vanno a passeggio non indossano la mascherina ma anche nei confronti degli esercizi commerciali, controllo che abbiamo già iniziato, che stiamo già facendo anche con personale in borghese per cui che proseguirà proprio nell'intento di limitare il più possibile la diffusione del virus.